La metterà, la mette la mascherina, anche all'aperto. Ma è evidente, dove è obbligatorio metterla la metto, il discorso. Se mi siedo in un ristorante, ma anche qui sia chiaro, non è che il virus navighi a una certa altezza e un'altra no. Se si siede al ristorante la mascherina uno se la toglie. Non è che il virus vada soltanto sopra il metro e mezzo, mi pare, no professore? Quindi sono tutti regolamenti che hanno un significato molto relativo, mi pare, proprio scientificamente, o almeno logicamente. Io penso che posso contagiarti a questa altezza e non soltanto quando sto in piedi. Ecco, per dire, sono tutte cose che, ma non stiamo a parlare della mascherina, per carità. La mia domanda era un'altra. Che cosa hanno fatto in questi otto mesi per avere più strutture di terapia intensiva, per sviluppare protocolli, per intervenire più efficacemente sul morbo anche senza il vaccino? Che cosa è stato fatto? Questa è la domanda, non le mascherine, che è una roba ovvia. Certo, bisogna mettersi le mascherine. Ma anche, scusi, ma anche quelli del governo facciano di meno di dire le puttanate che ho sentito dire che se ci fosse stato Salvini al governo sarebbe stato un'ecatombe. Dai! Allora, professore...